Io credo che ci siano emerse molte evidenze, ci siano state molte persone anche che le hanno studiate, ci sia stata molta ricerca, anche presa di voce pubblica e all'interno, per esempio anche il mondo dei social che ha tanti difetti da tanti punti di vista, ma è stato importante da questo punto di vista per affrontare il problema e sono creati anche gruppi di partecipazione, gruppi che hanno segnalato alcune delle criticità emerse, quindi dal punto di vista della consapevolezza sicuramente c'è stato un avanzamento e questo credo che sia molto importante. Quando è scoppiata la pandemia, nel momento in cui è scoppiata la pandemia, era già in atto secondo me un cambiamento, una presa di consapevolezza e c'erano stati anche tutta una serie di eventi, penso a Verona, ma insomma c'era una nuova ondata di femminismo che stava crescendo e delle reti che si stavano costruendo. La pandemia da questo punto di vista ha probabilmente un po' fermato questo processo dal punto di vista della partecipazione pubblica, però i semi che c'erano, queste consapevolezze che si stavano sviluppando hanno continuato a crescere in altre modalità, credo che il digitale da questo punto di vista sia stato molto importante e quindi sono anche fiduciosa, insomma che anche nel momento in cui poi si potrà, come finalmente anche oggi, insomma riprendere un percorso di partecipazione anche pubblica, si potrà anche andare avanti, portare avanti questa riflessione, non solo appunto in modo digitale ma in una maniera più partecipata. Le cose da fare sono molte perché questi sono problemi estremamente complessi, articolati e quindi non ci sono assolutamente soluzioni semplici, quindi è importante lavorare da più prospettive, è importante sicuramente che ci sia un impegno politico, in questo momento anche le risorse che arrivano col PNRR possono essere utili, dovrebbero, si è promesso che saranno utilizzate anche su questo versante, vedremo quanto, forse probabilmente non abbastanza, però comunque possono essere risorse che aiutano a sviluppare tutta una serie di politiche importanti per favorire l'accesso, ritorno delle donne nel mercato del lavoro, la possibilità di gestire anche un problema importante, lo sappiamo insomma che è quello della conciliazione vita-lavoro, magari anche in un'ottica di armonizzazione, insomma non solo politiche rivolte alle donne ma politiche che consentano anche agli uomini di assumere le proprie responsabilità da quel punto di vista, interventi che possano lavorare anche sugli squilibri salariali e che possano anche fare attività di monitoraggio rispetto a come questi fenomeni sono presenti all'interno del mercato del lavoro. Credo che sia importante, e forse su questo si è fatto, anzi senza forse, su questo si è fatto poco, lavorare di più sul problema della precarizzazione e di qualificazione del lavoro femminile, quindi sappiamo insomma che le donne più degli uomini rischiano di restare intrappolate in percorsi di precarietà, quindi questo è un altro ambito su cui mi aspetterei un lavoro dal punto di vista della politica. Poi c'è tutto l'altro ambito che abbiamo toccato, che è quello dei diritti, sicuramente dal punto di vista della prevenzione della violenza e non solo della repressione successiva, ma della prevenzione si può fare molto e si dovrebbe molto lavorare sulle culture, sulla sensibilizzazione, sui percorsi educativi, questo è un aspetto su cui c'è sicuramente una responsabilità politica, nel farlo o nel decidere di non farlo, come è successo qui a Trento in cui i percorsi sono stati fermati, e però c'è anche una responsabilità diffusa, nel senso che poi sull'educazione tutti siamo in qualche modo implicati, io lavoro in università, quindi lo sono in modo più diretto, ma chi è un genitore, insomma nelle relazioni poi tutti abbiamo una possibilità di incidere su questi aspetti, quindi è un lavoro più articolato e più diffuso. Poi l'altro tema che abbiamo toccato è quello anche del riconoscimento dei diritti, da questo punto di vista anche rispetto alle interruzioni di gravidanza, alcuni ambiti su cui si è, a volte approfittando strumentalmente della pandemia, si è tornati indietro, questo è un terreno molto delicato, anche le politiche che sono state recentemente annunciate a livello nazionale, e anche grazie appunto ai fondi del PNRR non toccano questo argomento e quindi su questo forse bisogna maggiormente prendere voce pubblica anche dal basso e affrontare una situazione che è al di là anche della pandemia, ma anche prima insomma era veramente molto problematica. Grazie a tutti.